Aveva con sé sette etti di hashish, ma erano per uso terapeutico, dunque non uno spacciatore, bensì un malato che voleva solamente lenire spasmi e dolori. Così il Tribunale di Arezzo ha assolto un cinquantenne tetraplegico dall'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, come richiesto anche dal procuratore Roberto Rossi. Si tratta di un caso molto simile a quello di Walter De Benedetto, il cinquantenne aretino, affetto da artrite e reumatoide, che a fine febbraio comparirà di fronte al giudice per l'udienza preliminare. Anche per lui l'accusa è quella di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Nel 2019 gli fu trovata una serra di cannabis vicino a casa. Penso che è un messaggio di speranza, capito? Non importa, ogni giorno di vita ho guadagnato per tutti. Tante persone pensavano che io morivo, quante volte. Sono rimasto qua perché sono attaccato alla vita come una cozza. E spero che le persone, vedendo questo messaggio, abbiano libero accesso ai farmaci cannabinoidi. Walter De Benedetto ha sempre spiegato che pur avendo riconosciuto il trattamento terapeutico dall'ASRA, la quantità di cannabis passata non gli era sufficiente, da qui la coltivazione. Non si scherza con le malattie, qualsiasi sia la patologia, basta che una persona ne abbia beneficio. Adesso questa sentenza potrebbe essere un precedente davvero importante per il suo caso. Come diceva mio nonno, la legge va piano, ma arriva sempre, lo so. E andiamo avanti quindi ragazzi attaccati alla vita, mi raccomando.